L'orologio ancora fermo all'ora solare segnale 3 perché nemmeno il dispositivo digitale della Banca Popolare di Milano in piazza Giordano a Foggia ne vuole sapere di un po' di legalità. Sì perché i malviventi nonostante presidi e controlli ci hanno riprovato e hanno piazzato dei potenti ordini davanti a due dei tre sportelli Bancomat dell'istituto. Quelli interni vicini ai bussoloti d'ingresso sono stati fatti saltare in aria, l'altro quello esterno è stato sventrato dall'onda d'urto. L'esplosione violentissima ha causato seri danni alla banca, è crollata la controsoffittatura, le porte di vetro e gran parte degli arredi sono andati distrutti. Secondo le verifiche della polizia di stato che sta seguendo le indagini sembrerebbe ci siano la maggior parte dei soldi hanno fatto sapere dalla questura, presumiamo non sia stato portato via nulla o solo una quantità esigua. Ora al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza dell'intera zona per risalire i responsabili dell'assalto. Foggia non si lascerà intimidire dalle bombe, arriva dito il sindaco Franco Landella. La nostra comunità riagirà ancora una volta con determinazione e in modo compatto alla violenza della criminalità. L'ordigno di oggi è inquietante per aggressività e spudoratezza dal momento che i malviventi non hanno avuto timore di colpire all'alba una banca collocata in pieno centro ma siamo certi che il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura riuscirà ad individuare gli autori del gesto assicurandogli alla giustizia.